bolognetti qualcuno pensa che siete i difensori della casta ovviamente una provocazione basta non se ne può più questa storia i costi la casta sono dieci anni che andiamo avanti così stanno hanno letteralmente avvelenato il dibattito politico gli animi io capisco che ci possono avere delle insoddisfazioni se vuoi dei magari dei risentimenti rispetto a una politica che a volte inadeguata ma il problema non sono i costi il problema è un altro problema semmo è la qualità della nostra democrazia no noi ci vogliamo tenere stretta la democrazia rappresentativa e pensiamo anche perché anche un questo è un tema alla nostra basilicata che se dovesse essere confermata questa riforma praticamente verrebbe letteralmente asfaltata da questa conferenza stampa parte un invito a tutti non solo alla politica di stare insieme di provare a salvare la democrazia sul territorio e deve essere la battaglia di tutti contro chi di fatto sta vendendo ripeto merce avariata ha avvelenato i pozzi e ne pagherà le conseguenze perché poi quando edifichi il palazzo lo costruisci senza fondamenta finisce per crollare e ti crollerà addosso prima o poi io mi auguro davvero che sia la battaglia di tutti perché una battaglia in difesa della democrazia e quindi i sindacati confindustria conf artigianato i sindaci le regioni le province anche e partendo qui dalla nostra basilicata che rischia di pagare un prezzo molto alto